Ciao a tutti cari amici del Signore della Vergine, eccoci qui in mia compagnia per conoscere le vostre previsioni rosco per la settimana che va tra lunedì 16 e domenica 22 maggio 2022. Vi ricordo come sempre che queste sono energie generali quindi non possono avere per tutti voi del Signore della Vergine, per quello mi invito a optare per i miei consulti privati di cartomanzia, vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni. Se volete iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, cliccate su tutte le notifiche per non perdere i prossimi video ed aggiornamenti. Lasciate un like, un commento, un feedback e sarò lieto di rispondervi. Benissimo, partiamo con la vostra stesura. Carta numero 14, cercare dei consigli o dei aiuti. Carta del 7 di denari. Lotto d'acqua. Abbiamo la carta della nascita collegata alle energie solari, carta numero 4. Quindi qui c'è il 14 comunque che contiene anche il 4, quindi qui c'è il 4, quindi il 4 potrebbe essere anche il vostro numero. Sfera generale, comunicazione verbale. E per finire, la carta numero 10 ed è questa. Adesso ovviamente vado a darvi le giuste interpretazioni. Allora qui, cari amici ed amiche del segno della vergine, vorrete ricevere da parte di qualche vostro parente, un vostro amico, oppure anche un istituto, un professionista, vorrete cercare degli aiuti, dei consigli. Quindi vi affiderete all'aiuto di un'altra persona per risolvere una determinata problematica. di vario genere può essere la problematica anche in base alla situazione che state vivendo. Potrebbe essere una problematica dal punto di vista emotivo, una problematica dal punto di vista finanziario, economico e professionale. Magari qui vorrete incontrare un'agenzia per il lavoro, per appunto cercare un nuovo lavoro, un nuovo impiego, oppure vorrete sentire degli istituti di credito per appunto cercare di ottenere un finanziamento, un prestito, anche capire se è possibile incominciare a pensare a un mutuo, ok? Ci sono varie comunque interpretazioni. Qui di sicuro siete in attesa che ci sia un risultato, ok? Un risultato dovuto anche a un lavoro che avete fatto in precedenza. Sicuramente qui c'è un investimento, investirete su qualcuno, qualche persona, oppure anche investirete proprio da puntista monetario. Dovete fare anche un piccolo sforzo per raggiungere il vostro obiettivo, perché dovete aspettare il momento giusto, ok? Quindi se magari non vedrete ancora concretizzare un qualcosa durante questa settimana, non demordete, non mollate la presa, perché siamo di fronte al set di denari. Ci stiamo avvicinando pian piano al 10 denari che indica comunque la ricchezza assoluta, la solidità, la stabilità. Però sicuramente state mettendo tassello dopo tassello per costruire qualcosa di importante sia nei vostri rapporti, sia da puntista professionale ed economico, ok? Ora, molti di voi stanno facendo un percorso, ma che ovviamente hanno iniziato durante le settimane e i mesi precedenti, di consapevolezza, e questo 8 d'acqua dice che c'è il desiderio da parte vostra di andare avanti, quindi di guardare verso una nuova strada, di chiudere è una situazione che non è più affine a voi, perché siete alla ricerca di qualcosa di più significativo, di più equilibrato. Sicuramente state facendo anche un percorso di crescita emotiva, di crescita spirituale, grazie anche ai rapporti che avrete e che state avendo con le altre persone, che qui ripeto possono essere membri della vostra famiglia, il vostro padre, i vostri amici, ma anche ovviamente sul luogo di lavoro. Qualcosa comunque che nasce, la nascita, la natività, quindi energie del sole, energie comunque luminose, energie proprio di chiarezza, la nascita potrebbe essere ovviamente una nascita tutto tondo, potrebbe essere la nascita di un bambino, di una gravidanza, ovviamente la nascita indica un qualcosa di nuovo, una novità importante, ok? Qualcuno che si paleserà a voi e comunicherà verbalmente, quindi può comunicare sì anche tramite chat, tramite sms, whatsapp, ma secondo me qui vi approcciate all'altra persona tramite una comunicazione diretta, teta teta, verbale, attraverso degli audio di whatsapp oppure guardando in faccia l'altra persona. Quindi qui in alcuni casi potreste iniziare una nuova relazione, ok? soprattutto se siete comunque single, da puntista lavorativo qua sicuramente potrebbe esserci proprio il palesarsi di un nuovo contratto, di una nuova collaborazione anche fruttuosa e quindi qua potrebbe essere un periodo comunque fortunato. Per chi volesse giocare all'otto, però mi raccomando come sempre giocate con moderazione, i tre numeri fortunati sono il quattordici, il sette e il quattro, quindi se volete potete giocare questi numeri, ok? magari teneteli giocati anche per tre o quattro volte, quindi qui da puntista lavorativo potreste intraprendere una nuova comunque collaborazione o potreste anche avere un'idea che balzerà alla vostra mente che sicuramente sarà di ottimo auspicio. Qui mi raccomando, non fate però di testa vostra ma cercate appunto un consiglio o un aiuto. Molto spesso il consiglio da parte di persone di fiducia o da parte di professionisti del settore è molto utile proprio per indirizzarvi sulla giusta via. Mi raccomando, perché me lo dice questa carta, non esagerate, nel senso che non buttatevi a capofitto, non spendete più del dovuto, perché qua può esserci anche il rischio di un tracollo. Se avete dei soldi cercate comunque di tenerli da parte senza comunque sperperare il denaro, senza entrare nelle dipendenze del gioco. Mi raccomando perché questo è un messaggio chiaro e forte che vuole darvi questa carta numero 10, ok? Mi raccomando, se per caso in alcuni casi ci sono delle relazioni, sia da puntista lavorativo, sia da puntista amicizia o amorose che non possono essere più tenute in piedi, fate come questa figura che sta guardando oltre. cercate comunque di abbattere questi ostacoli e puntate verso nuove strade, verso nuove orizzonti. Fatevi avanti comunque sia da puntista professore sia da puntista di rapporti interpersonali, perché qui qualcosa di nuovo, qualcosa di rinnovato, qualcosa di bello che vi porta comunque dell'equilibrio, perché il numero 4 è legato all'equilibrio, è legato comunque alla stabilità, sicuramente potrete averlo proprio durante questa settimana, ok? In alcuni casi, alcuni di voi potrebbero iniziare un nuovo percorso di formazione, potrebbero partecipare a un seminario, ma anche per ampliare le proprie capacità e le proprie conoscenze. Benissimo che amici del Signore della Vergine, queste sono le vostre previsioni e vi aspetto sempre qui sul Taco Man. Ciao a tutti e alla prossima!